Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale Veri ASMR Io sono Federica e quello che state per guardare è un nuovo video ASMR Mukbang Quindi un video in cui mangerò con voi tutti questi cibi presi direttamente dal McDonald's Sempre che già si me l'ho conciata Abbiamo delle patatine ricche Queste qui con il cheddar Poi abbiamo il filetto fish Quindi il panno con il pesce Un paneo con la nutella E poi anche una frittella contenuta qui dentro Infine la Fanta senza la cannuccia Perché la nuova politica del McDonald's è quella di non utilizzare cannuccia di plastica Beh direi di iniziare, sono sommersa di cose Volevo innanzitutto assaggiare le patatine Prima che diventino poco croccanti Di solito sono molto poco crunchy le patatine del McDonald's Comunque Vi chiedo di mettere like a questo video E di lasciare ovviamente un commentino come segno del vostro pastaggio Dicendomi se mi piace il panino al pesce del McDonald's Oppure se non lo avete mai assaggiato So che è qualcosa di molto particolare E probabilmente raro Naturalmente questo è un assaggio di ciò che sentirete Ma i suoni della masticazione vi avverto saranno piuttosto forti perché amplificati dal microfono Quindi se non dovesse piacervi questa tipologia di video Vi invito a sceglierne un altro sul mio canale Ce ne sono davvero tantissimi Quindi magari per rilassarvi potrete guardare qualcosa di diverso Se invece vi piace questo genere o più semplicemente siete curiosi Continuate a guardare I vicini oggi potrebbero essere particolarmente scatenati Non sono riuscito a vedere ma In teoria Sì perché ho acquistato un supporto Per far vedere meglio il cibo quando faccio questo genere di video Nel frattempo vorrei anche rispondere ad un tag che è stato creato da Monica Era sulla ASMR che saluto Ciao Monica E sono stata taggata Già un po' di tempo fa dire il vero Da Giulia ASMR E questo tag riguarda le strane abitudini alimentari che ognuno di noi ha Bisogna semplicemente elencarle E in realtà io non ho delle strane abitudini alimentari Dovrò pensarci un po' Dunque una delle abitudini sicuramente più singolari è il fatto di non mangiare la carne Non sono vegetariana perché mangio il pesce Però cerco di eliminare il più possibile il consumo di carne E fondamentalmente non mi piace Qualche volta capita, vi dico la verità Che io mangi Per esempio Per esempio Per esempio Affettati Oppure Cotolette di pollo Ma è veramente molto molto raro E lo faccio solo se Non c'è altro in quel momento E' un'occasione particolare Se sentite sospirare è Jessie Sì Eccolo Potreste scendere per favore quasi finite un'altra abitudine non strana però particolare è quella di togliere quando appunto mangio magari in occasioni particolari degli affettati come il prosciutto o anche il salame togliere il grasso se c'è il sapore della carne non mi piace infatti quello del grasso della carne per me è terribile la prossima volta devo ricordarmi di registrare questi video quando non ho particolarmente fame e là il mio rossetto è andato via tutto quasi bene passiamo al panino vedete contiene il filetto di pesce del cheddar è qualcosa altro qui che non capisco non è male c'è una specie di salsa con dei sottaceti dentro credo un'altra cosa particolare che faccio a tavola è il non bere l'acqua cassata in realtà non bevo quasi nessun'altra pipita cassata a parte la fanta dopo la pizza ecco dopo la pizza mi piace per la fanta spero con tutto il cuore che queste salse non contengano aglio perché ogni volta che mangio in questo col cosa con la fiammato che mangio stò male non è male Sì, sì, sì. mi piace questo smolto ho dovuto tagliare le unghie perché si erano completamente rovinate dopo lo smolto semipermanente che avevo applicato qualche settimana fa una strada abitudine per la quale molti di voi mi hanno rimproverata in passato è quella di mangiare solitamente le patatine fritte con la forchetta o comunque con il pastoncino perché diversamente da come è accaduto oggi odio sporcarmi le mani mi piace mangiare se posso scegliere prima il dolce e poi il salato quando raramente vado in qualche fast food mi capita di mangiare le patatine fritte e il gelato nello stesso momento è anche di intingere le patatine nel gelato vedete la fanta? no non si vede ecco questa non è per niente casata due pensavo fosse solo una invece ci sono due frittelle ho poca fiducia in questa vediamo è una specie di pigna ripieno di crema era tra le novità non volevo provarlo però non è stata una grande scelta vediamo invece questo il mac crunchy bread con la nutella sarà croccante lo scopriremo lo scopriremo solo assaggiandolo per l'aspetto direi no ah ecco solitamente non mangio la nutella a meno che io non sia a casa e non abbia niente da fare perché nonostante mi piaccia molto mi fa un bruttissimo effetto questo vanino sa di affumicato caspita non me lo aspettavo è tranci sul ferio questo non è affatto male intanto c'è Jessica che sta distruggendo tutto mi è venuta in mente un'altra abitudine cioè il fatto che io debba mangiare poco e spesso non riesco a fare un intero pasto mandando tutte le portate soprattutto in grandi quantità ho una domanda per voi che avete gatti dei gatti un gatto ma anche il vostro o i vostri si anima si animano quando avete da fare qualcosa di molto importante perché lui dorme per quasi tutto il giorno tranne quando ovviamente deve mangiare e quando io decido di giocarci ma poi si risveglia improvvisamente appena io devo fare un video e inizio a dare fastidio a fare un macello vabbè direi che posso abbastare spero che questo video vi sia piaciuto sicuramente lo avrete apprezzato se amate i rumori della masticazione e soprattutto se vi piace vedere i video mukbang magari avete mangiato insieme a me e ci siamo fatti un po' di compagnia non lo so fatelo sapere con un like oppure un dislike iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanellina e andatemi a seguire anche su Instagram e ci vediamo ci vediamo al prossimo video bacini fattosi adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Fairy Crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte un po' di questi